Siamo nel villaggio temporaneo che sta nascendo a Villa Sant'Angelo, rasal suolo dal terremoto. Siamo col primo cittadino Pierluigi Biondi. Adesso entriamo col sindaco nelle nuove case di Villa Sant'Angelo. Questa è una tipologia di casa da un'unica camera da letto, quindi per un nucleo familiare avente la consistenza di uno o di due persone. Questo qui dopo la verandina d'ingresso c'è il soggiorno con angolo cottura, è dotata di tutte le apparecchiature. Qui sulla destra c'è il bagno con il piatto doccia, i sanitari. E questa qui invece di fronte a noi è la camera da letto. Nei prossimi giorni procederemo anche all'esplodamento della gara per l'acquisto degli arredamenti. e successivamente i cittadini potranno iniziare ad entrare. Naturalmente con questo arredamento e all'innovazione della casa ci sono tutti i lavori esterni ancora da fare che prevedono la pavimentazione della strada principale e di quelle laterali. Naturalmente queste case sono dotate di tutti i sottoservizi e c'è anche la centralizzazione dell'antenna per la televisione per evitare il proliferare sui tetti di tale apparecchiature e quindi per mantenere questo aspetto di villaggio quanto più possibile compatibile con le condizioni ambientali a contorno.